Il tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Polla ha evitato che una lite familiare potesse trasformarsi in tragedia. L'episodio è avvenuto nella serata di lunedì in un'abitazione alla periferia di Polla. Un uomo di 40 anni dopo cena, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, ha cominciato a minacciare la moglie e i bambini. Inizialmente sono volate soltanto parole grosse, poi il quarantenne ha cominciato ad avere comportamenti violenti. I tre figli, di età compresa tra i 5 e i 12 anni, sono scoppiati a piangere e la madre è riuscita, di nascosto dal marito, a chiamare il 112. Dopo pochi minuti alla porta di casa si sono presentati i militari della stazione di Polla. Providenziale è stato l'intervento dei marescialli Danilo Marzullo e Giovanni Cunsolo, che hanno faticato non poco per riuscire a placare l'uomo e a riportare la calma. I due militari dell'arma hanno condotto il quarantenne in caserma, dopo aver tranquillizzato anche la donna e soprattutto i tre bambini, terrorizzati dopo aver visto il padre fuori di sé. Nei confronti del quarantenne, oltre alla denuncia, è scattato l'allontanamento dall'abitazione. L'uomo di origine napoletane vive a Polla da qualche anno, dove si è trasferito insieme alla famiglia per motivi di lavoro. Sembra che l'episodio, che è accaduto lunedì sera, sia stato l'ultimo di una lunga serie. La moglie infatti ha raccontato ai militari dell'arma che da tempo il marito la picchiava, minacciandola di morte. Nei prossimi giorni è attesa da parte del GIP presso il Tribunale di Lago Negro la decisione su quale misura adottare nei confronti del quarantenne. Per motivi di sicurezza invece la moglie e i tre figli sono stati condotti in una struttura protetta, al di fuori del Vallo di Diano.